Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Maxo, vi chiedo scusa del video molto veloce che vi sto facendo soprattutto non irritato, non insultate i miei commenti, però ho veramente una cosa molto importantissima da dire per su domani, ovvero oggi, sul raduno di Luke 4316 terrò una live, un paio di live su Facebook del raduno di Luke ovviamente dovrò stoppare molte volte perché la batteria non dura un cazzo facendo le live su Facebook comunque mi potete trovare scrivendo MaxoPaxo, Maxo con la M grande, Paxo, staccato Paxo con la P grande trovate il link anche in descrizione, mi pare, dal mio profilo privato, potete farmi una richiesta d'amicizia e vi arriverà direttamente la notifica sarò in live domani, vediamo se ci sarà anche Oclim a farmi compagnia, che sarà anche lui nell'evento come vedete sto caricando il power bank e il tablet domani sarò l'evento, farò questo live, farò anche il troll che vi ho tanto promesso a Luke questo è un video cortissimo niente, cosa volete che vi dico? farò questo live, farò, scusate lo scusa di questo video, però dove lo metterò privato se farò raggiungere a milioni di visite lo momentizzerò perché sono moni gamba bella farò dormire raga, ci vediamo domani in live su facebook adesso sapete come cazzo erito